Ciao amici ed amiche di YouTube, bentrovati a questa puntata ricchissima del nostro cielo della settimana perché questa è una settimana in cui si sposta il sole passando in leone, si sposta mercurio passando in vergine ma soprattutto comincia ad ingranare Marte in gemelli ed è di questo di cui ci occuperemo. Però prima di entrare nel vivo le solite raccomandazioni, iscrivetevi al canale che sarà sempre più grande e più bello, attivate la campanella per non perdere nessuna delle nuove uscite, mentre se volete leggere l'oroscopo della settimana amore e lavoro segno per segno lo trovate al link qui sotto. Allora se siamo pronti partiamo! Allora io direi di entrare dritti nei temi della serata che sono parecchi temi perché questa è una settimana particolarmente interessante per vari motivi. Primo perché il sole cambia segno, lascia il cancro ed entra in leone, secondo segno dell'estate, segno fisso e quindi ci porta proprio nel cuore dell'estate e come ormai saprete benissimo il sole è la lancetta principale di questo orologio astrologico per cui ogni volta che il sole cambia segno cambiano un po' gli equilibri di tutti e dodici segni zodiacali e si cominciano già da adesso ad anticipare le tematiche dell'oroscopo di agosto che vi anticipo a mia volta faremo la settimana prossima. Poi nel corso della settimana anche Mercurio cambia segno, Mercurio sta viaggiando in anticipo rispetto al sole e quindi era già in leone, lascia il leone per entrare in vergine e già da qua possiamo dire che il ritorno del sole in leone sostiene soprattutto i segni di fuoco leone, ariete e sagittario e i segni d'aria, in particolare bilancia e gemelli ma che poi l'arrivo di Mercurio in vergine sostiene anche i segni di terra e quindi la vergine, il toro e il capricorno e i segni d'acqua. Quindi abbiamo un cielo piuttosto equilibrato tra tutti e quattro gli elementi grazie a due cambi della guardia di questa settimana, uno che riguarda il sole e quindi le energie, la vitalità, i progetti e sono i segni di fuoco e i segni d'aria e l'altro che riguarda le risposte, le proposte, il dialogo, la comunicazione, il movimento, gli spostamenti, le novità e sono soprattutto i segni di terra e i segni d'acqua e tutto questo poi lo approfondiremo però io oggi vorrei parlarvi di un cambio che c'è stato già da qualche giorno e che in qualche modo sposta tanti equilibri ed è il passaggio di Marte dal toro ai gemelli il passaggio è avvenuto intorno al 20 di luglio che durerà oltre un mese perché i transiti di Marte durano sempre 5-6 settimane quindi insomma ci accompagnerà per buona parte dell'estate e che cambia tantissimi equilibri anche perché Marte è il guerriero dello zodiaco è il pianeta della guerra nel senso della capacità di imporsi, di farsi strada, di farsi largo rispetto a ciò che ci intralcia per cui avere Marte a favore significa avere un motore ausiliario, avere Marte storto significa viaggiare con il freno a mano inserito e quindi questo cambio della guardia di Marte cambia tanti equilibri all'interno dello zodiaco intanto diciamo una cosa che vale per tutti i segni Marte è un pianeta che risuona con l'elemento del fuoco e che rappresenta in qualche modo il ferro quindi la spada, l'azione, l'iniziativa, l'intraprendenza, la capacità di lottare, il coraggio Marte in toro e cioè un pianeta di fuoco in un segno di terra così solido che oppone così tanta resistenza è comunque un transito che ha rallentato e ha creato un po' di fatica in tutto lo zodiaco pensate Marte è sinonimo di ferro, in toro che è la terra più solida è come un aratro cioè è qualcosa che ha smosso ma a costo di una certa fatica e con una certa lentezza Marte che passa in gemelli, segno mobile d'aria, al contrario è un'elica cioè è qualcosa, pensate proprio anche proprio all'immagine, il ferro nell'aria è qualcosa che crea movimento, che rimette in moto le situazioni istantie per cui al di là di chi se lo becca a favore e di chi se lo becca contro che è una visione dell'astrologia che non mi appartiene, è comunque un transito che rimette in moto tante situazioni rallentate soprattutto perché in gemelli c'è anche Giove per cui Marte raggiunge Giove in gemelli nello stesso momento in cui il sole passa in leone e Mercurio passa in vergine già qua si comincia a comporre un puzzle piuttosto chiaro adesso ne parleremo segno per segno, però prima di entrare nel vivo io vorrei cominciare con un cappelletto dedicato a tre segni che sono il leone, l'acquario e lo scorpione sono i segni che nelle scorse sei settimane hanno avuto Marte storto ma soprattutto sono i segni che nello scorso anno dalla metà del 2023 fino alla fine di maggio del 2024 hanno avuto Giove storto prima c'è stato Giove in toro e quindi in opposizione allo scorpione e in quadratura al leone e all'acquario e come Giove è uscito alla fine di maggio è arrivato Marte come dire una cattiveria? no, non è una cattiveria e non è una coincidenza è come dire che per questi segni nell'ultimo anno a partire dalla metà del 2023 ci sono state delle tematiche in grande evidenza che andavano gestite e che andavano risolte e che probabilmente si sono messe in luce attraverso una serie di difficoltà attraverso una serie di rallentamenti tematiche che per lo scorpione riguardano il rapporto con gli altri e quindi le questioni di fiducia quanto mi posso aprire e quanto non mi posso aprire quanto mi fido e quanto non mi fido qual è un contratto, un ruolo, un inquadramento giusto per me e quale non lo è certe prospettive di coppia con il partner certe questioni di definizione e di chiarezza nei rapporti per l'acquario riguarda le tematiche della casa, della famiglia quanti hanno avuto traslochi, trasferimenti quanti hanno avuto il bisogno di affermare la propria autorità in casa rispetto a situazioni che andavano allo sbaraglio quanti hanno dovuto riradicare nuove certezze in termini più simbolici mentre invece per il leone riguardavano la propria immagine professionale le proprie prospettive di carriera quello che gli altri vedono in me quello che io invece vorrei esprimere il fatto di essere in luce quanto vorrei o di sentirmi messo in ombra tutte queste tematiche sono state attive fino alla fine di maggio scorso del 2024 dopodiché uscito Giove è arrivato Marte che è il pianeta dell'azione, il pianeta della grinta e dell'intraprendenza quindi è possibile che nelle scorse tre settimane abbiate dovuto lottare di più e che dalla fine di maggio comunque certe questioni si siano mostrate in maniera più chiara ma probabilmente questo è proprio l'ultimo tratto di un percorso che va avanti dalla metà del 2023 è come per dire, come dire per un anno quando c'era Giove storto ho dovuto abbozzare, ho dovuto osservare, attendere, scendere a compromessi aspettare che fosse il momento giusto per agire dopodiché Giove è andato via ha lasciato l'opposizione per lo scorpione ha lasciato la quadratura per l'acquario e per il leone è arrivato Marte che anche se attraverso il nervosismo ha comunque smosso delle reazioni chiare e quindi probabilmente nelle scorse settimane avete lottato di più per affermare certi principi per ristabilire certi punti fermi per imporvi su certe questioni tutto questo però adesso ce lo lasciamo alle spalle e quindi per il leone, per l'acquario e per lo scorpione Giove è andato via a fine maggio Marte è andato via adesso su certe battaglie cominciate a segnare i primi punti a vostro favore il che significa che per l'acquario si conclude finalmente un lungo cantiere una lunga fabbrica di San Pietro dove ci sono stati magari dei lavori che sono andati avanti in eternità ci sono state delle questioni legate alla casa penso a chi la deve comprare, a chi la deve vendere a chi la sta ristrutturando, a chi da poco ha avuto un bambino penso a tante questioni che riguardano i rapporti di famiglia per lo scorpione la difficoltà di cambiare ruolo di affermarsi, di imporsi, di ottenere il giusto inquadramento contrattuale per il leone tutte questioni di riconoscimento allora da adesso in poi considerando che davanti a noi abbiamo il mese di agosto comunque un mese più fermo però tante questioni cominciano finalmente a girare per il verso giusto anche questi segni poi li riprenderò però ci tenevo proprio a cominciare con una marcatura su tre segni che non solo si liberano da Marte storto per sei settimane ma ancora prima da Giove storto per i dodici mesi precedenti detto questo, Marte arriva in gemelli e quindi i primi a beneficiarne sono i segni d'aria primo fra tutti i gemelli i gemelli hanno Giove nel segno dalla fine di maggio e quindi è un momento in cui le cose in teoria cominciano a muoversi, a cambiare in certi casi l'arrivo di Giove, ve lo dico porta un seme di novità che poi ci mette del tempo a vedersi in certi casi invece Giove arriva e come primo compito ripulisce il campo dall'erbacce crea un terreno vuoto crea uno spazio bianco sul quale ricostruire per cui non è escluso che l'arrivo di Giove per i gemelli possa aver puntato il dito su alcune situazioni che non vanno più bene possa aver mostrato il capolinea di alcuni progetti di alcune iniziative possa aver portato a comprendere che una certa storia d'amore è arrivata al capolinea per cui grande momento si chiude un ciclo e se ne riapre un altro per i gemelli in particolare l'arrivo di Marte dona tono, vigore, energia perché i gemelli nelle scorse settimane con questo Giove appena arrivato nel segno erano un po' frastornati in una situazione di confusione in una situazione di poca chiarezza o comunque in una difficoltà di agire e di imporsi su certe situazioni Giove e Marte nel segno rendono energici, vincenti, convincenti danno la forza che serve per insistere se ci sono delle risposte che non arrivano per imporsi se ci sono delle decisioni di gruppo che non si riescono a prendere e quindi dà proprio energia anche proprio a livello fisico per cui se vi siete sentiti sotto tono nelle scorse settimane adesso arriva tutto un altro vigore per cui anche carisma a livello passionale la possibilità di fare delle conquiste insomma i gemelli risalgono fortemente una china ovviamente Marte nel segno può rendere più polemici può rendere più puntigliosi per cui sfruttatene il bene senza cadere diciamo nella trappola di litigare per tutto perché rende anche un po' litigarelli stesso discorso lo facciamo per l'acquario il quale si libera da una quadratura di Marte e quindi nelle scorse settimane era tutto una lotta continua era tutto un doversi imporre, insistere presidiare il proprio confine non farsi invadere, stabilire i propri paletti adesso non solo diciamo che tutto questo mostra un aspetto molto più costruttivo quindi non è più tutta una lotta inizia in qualche modo un allungo ma soprattutto Marte in quinta casa è un transito che valorizza le idee valorizza la creatività permette di brillare di più di essere più valorizzati e riconosciuti proprio per ciò che si fa anche perché in questo momento per l'acquario stiamo arrivando al Leone all'anticompleanno ai sei mesi dopo il compleanno è anche un momento per arrivare a tirare una riga e capire cosa va bene e cosa no arrivandoci con Giove e con Marte a favore c'è la possibilità proprio di non sottostare più non subire più certe dinamiche ma riaggiustarle in una maniera che ci piace di più ovviamente Marte in quinta casa è anche fascino, carisma, autostima capacità di conquista di fare un buon effetto sugli altri di non sentirsi perennemente il bruttanatroccolo negli ultimi tempi l'acquario ha avuto dei gap di autostima terribili e quindi comunque è un transito che rifà girare meglio la boa lo dicevo prima comunque si viene da sei settimane con Marte storto e quindi adesso è tutto un altro passo è tutta un'altra energia lo stesso vale anche per la bilancia che con Marte in nona casa è come Cristoforo Colombo sulle caravelle cioè certe situazioni oggi hanno stancato non funzionano più la bilancia ha bisogno di espandersi di allargare gli orizzonti di fare cose nuove di staccarsi anche da certe routine che seppur riesce a tenere in piedi comunque l'hanno stancata e quindi c'è proprio bisogno di darsi nuovi obiettivi di conoscere nuove persone di approfondire nuovi lati del proprio lavoro di ricominciare a studiare di rimettersi in pista anche perché contemporaneamente sempre per la bilancia da questa settimana il sole lascia la quadratura e torna a favore per cui sicuramente questo è un po' il giro di boa tra un mese di luglio che finisce adesso perché finisce con la fine del transito in cancro che è stato estremamente faticoso e un mese di agosto che comincia già da questa settimana con un'anticipazione con il sole in leone che invece è in grande grande rilancio primo obiettivo per tutti e tre questi segni recuperare energie per i gemelli per l'acquario e per la bilancia secondo obiettivo è cominciare a darsi dei nuovi obiettivi per l'autunno che portino a smontare certe dinamiche ormai troppo ripetitive e che portino nuova energia comunque sia anche da questo punto di vista essendoci anche mercurio e venere a favore sia per la bilancia che anche per i gemelli è un periodo in cui si possono fare grandi conquiste del cuore andiamo ancora avanti e passiamo ai segni di fuoco che comunque beneficiano di questo nuovo Marte per il sestile e quindi in qualche modo per un aspetto che è più pragmatico e più concreto ma aiuta anche a sbloccare e a risolvere certe situazioni partiamo con l'Ariete Marte in terza casa la casa del dialogo e della comunicazione il sole che lascia la quadratura e torna a favore è un po' come sganciare certe zavorre e procedere più leggeri per cui innanzitutto molte cose iniziano a scorrere meglio grazie al ritorno del sole in buon aspetto ma contemporaneamente Marte che è il governatore dell'Ariete nella casa del dialogo e delle trattative permette di affrontare dei discorsi di rimettere la palla al centro se ci sono state delle discussioni di essere più convincenti convincenti con le proprie idee per cui per chi cerca lavoro per chi ha bisogno di convincere un capo di un progetto o di qualunque altra cosa per chi sta cercando sostenitori per una propria iniziativa finanziatori adesso c'è proprio la possibilità di essere chiari nitidi convincenti e portare un interlocutore dalla vostra parte c'è anche venere a favore e questo significa che l'interlocutore da portare dalla vostra parte può essere anche una persona che vi interessa laddove magari finora siete stati un po' più defilati un po' più vi siete imposti di meno avete osservato aspettando il momento giusto adesso arriva il momento magari di tirare fuori il discorso di fare un invito di mandare un messaggio di esporsi di più e sicuramente con il cielo generale di questo periodo non credo che ci possano essere delle delusioni lo stesso riguarda anche le coppie cioè se ci sono state dei discorsi non affrontati o delle situazioni che hanno creato delle distanze con Marte in terza casa la riete probabilmente riapre il discorso si fa ascoltare e contemporaneamente arriva dritto al punto e porta anche l'altro dalla sua parte quindi possono essere questioni banali l'organizzazione delle vacanze possono essere questioni più importanti comunque sia la riete torna a fare da traino alla coppia anche in maniera più lucida e più centrata dalla riete passiamo al leone l'abbiamo già detto ci siamo liberati di una lunga quadratura di Marte che ha reso tutto una lotta sul lavoro che ha dato la sensazione di muoversi in un ambiente ostile di sentire il peso della competizione di doversi guardare le spalle con maggiore attenzione questo nelle scorse settimane che ha portato costantemente a ribadire il punto rispetto a certe situazioni di lavoro anche rispetto al fatto di essere messi più in luce di essere più visibili di stare meno in panchina adesso Marte che torna a favore innanzitutto stempera tantissime tensioni e poi contemporaneamente volge può portare al meglio può portare i primi punti in tante battaglie che state conducendo da tempo per cui si attenua la temperatura di tanti contrasti e contemporaneamente si comincia a segnare una serie di punti questo significa che se sembrava che una certa situazione era un no adesso potrebbe capovolgersi in un sì o comunque in un poi vediamo se sembrava che in certe situazioni aveste molti davanti a voi in lista d'attesa prima di poter raggiungere un certo obiettivo adesso la lista d'attesa si accorcia per cui il grosso arriverà ad agosto nella seconda metà di agosto e poi a settembre però comunque per il leone cominciano finalmente comincia finalmente a risalire la china questo riguarda anche la possibilità in certi casi se alcune questioni di lavoro non si sbloccano di agganciare nuovi obiettivi di agganciare nuovi riferimenti o anche di fare nuove amicizie che possono invece perorare la vostra causa e lo dico perché luglio è stato un mese in cui ne ho letti tanti di leoni ai ferricorti con un capo ai ferricorti con un socio in una situazione che comunque non si sbloccava questo nuovo Marte ne sblocca moltissime abbiamo lasciato per ultimo il sagittario perché perché per il sagittario Marte è in opposizione l'opposizione ben lungi dall'essere un aspetto negativo è un aspetto che fa da detonatore ad una serie di situazioni che prima erano sotto traccia e che invece adesso emergono più preponderanti quando ad essere in opposizione a Marte è come se fosse la miccia che innesca certe discussioni certi confronti che prima sono rimasti un po' in sordina è come se il sagittario nelle scorse settimane si fosse tenuto tutto dentro avesse evitato di far esplodere certe discussioni o di tirare fuori ciò che pensava adesso non fa più sconti non ha più filtri per cui se c'è una cosa che non lo convince chiede in maniera diretta se c'è una cosa che l'ha fatto rimanere male ci torna e la riaffronta se c'è qualcosa che non gli è chiara chiede certezze se ci sono risposte che non arrivano o che che danno dei rimpalli o dove prima è sì poi forse poi vediamo arriva ad imporsi in maniera più diretta per cui anche per il sagittario è un transito che fa sentire un po' in lotta ma sicuramente scatena suscita delle reazioni forti per cui poi il sagittario è un segno accomodante è un segno ottimista è un segno che comunque pensa sempre che le cose si risolvano adesso con saturno e nettuno in quadratura con giove in opposizione e adesso anche marte le cose non si risolvono da sole vanno affrontate anche in maniera energica anche con il rischio di deludere qualcuno o di dare nell'occhio rispetto a certe reazioni per cui è un sagittario che dice oh qualcuno resterà deluso non mi importa io tiro fuori quello che ho dentro e mi affermo e da qui in poi a settembre tanti equilibri cambieranno e cambieranno grazie a delle prese di posizione che sono proprio di adesso con questo marte in opposizione stesso discorso e cioè un marte dinamico un marte che sprona e che spinge a lottare vale anche per gli altri due segni mobili e cioè per i pesci e per la vergine allora comincerai dai pesci dove marte entra in quarta casa e quindi può creare una serie di questioni di discussioni o di piccoli scontri da affrontare proprio sul tema della casa penso banalmente a chi ha dei problemi col condominio penso banalmente a chi ha dei lavori di ristrutturazione che stanno durando o costando più del dovuto penso a chi sta vivendo un disaccordo sull'organizzazione della casa e per traslato anche della famiglia magari anche banalmente in vista delle vacanze penso a chi più simbolicamente e forse anche in maniera più importante in questo momento sui pesci ha bisogno di rimarcare costantemente i propri confini di ristabilire costantemente le proprie regole di evitare di essere invaso e quindi magari che qualcuno si inserisca in certe decisioni di lavoro cioè ha bisogno di ristabilire costantemente la propria autonomia la propria indipendenza il proprio ruolo e la propria posizione sul lavoro probabilmente per qualcuno è tempo di vacanze ma penso che per chi rimane al chiodo tra qua e i primi di agosto probabilmente questo potrebbe essere un momento di discussione per ristabilire certi punti fermi ad esempio di un progetto che parte a settembre laddove è importante chiarire bene i ruoli chiarire bene gli ambiti di autorità questo lo decido io questo lo decidi tu questo è un mio compito questo non lo è per cui probabilmente anche sulla scorta di certi cambiamenti che sono migliorativi c'è bisogno però di tenere alta la guardia ovviamente discussioni che riguardano la casa penso anche alle storie più recenti dove per esempio uno dei due vuole la convivenza e l'altro non è convinto penso al fatto di togliersi dei dubbi se ci sono chiedendo delle risposte certe i pesci pure come il sagittario sono un segno mobile quindi sono un segno accondiscendente che preferisce l'armonia ad una lotta ma in questo momento probabilmente anche a costo di essere un po' più puntigliosi hanno bisogno di risposte chiare e qualcosa del genere riguarda sul lato opposto anche la vergine qui abbiamo un giove e poi adesso anche marte nella decima casa per cui la vergine probabilmente ha bisogno di maggiore chiarezza su certe prospettive di lavoro certi contrasti non le sono andati a genio le hanno lasciato dubbi le hanno lasciato cose poco chiare marte in quadratura probabilmente è lottare per definire meglio certe prospettive del lavoro e quindi chiedere insistere anche in certi casi martellando finché non arrivano delle risposte chiare ma può chiarire tante situazioni che arrivano fin qui in maniera un po' meno un po' più ambigua probabilmente per qualcuno marte in decima casa significa muoversi in un ambiente particolarmente competitivo particolarmente serrato fare un po' fatica ad ambientarsi o dover anche qui costantemente ribadire la propria autorità penso ad esempio a qualcuno che sente di aver subito un piccolo sgambetto o comunque una situazione che non è che non gli è andata proprio a genio probabilmente c'è da puntualizzare questo riguarda anche le prospettive dei rapporti per cui qualcuno anche qui sul fronte della vergine potrebbe affrontare un falò di confronto con una storia recente e cercare di capire se vogliamo o non vogliamo le stesse cose se stiamo andando nella stessa direzione oppure no stringendo per il sagittario per i pesci e per la vergine questo marte in posizione dinamica spinge ad accontentarsi di meno e ad insistere di più a chiudere meno un occhio rispetto alle cose che non funzionano e a chiedere maggiori certezze o comunque a contestare qualcosa che non gli sta più bene in ogni caso tante situazioni potrebbero volgere al meglio proprio a partire da queste settimane con marte in gemelli poi ci sono quattro segni per i quali per l'astrologia diciamo classica questo nuovo marte sarebbe neutrale in realtà secondo me in astrologia niente è mai neutrale per cui noi parliamo anche di questi quattro segni in base alle case in cui marte va a transitare nel loro schema i primi due sono il toro e lo scorpione allora per il toro e lo scorpione è un marte che attiva questioni che toccano l'area dei soldi del riconoscimento proprio a livello concreto e quindi di retribuzione di condizioni economiche di fattibilità di alcuni progetti in base al loro costo e di dove si vanno a reperire le risorse per cui per il toro e per lo scorpione l'asse interessata è proprio quella del riconoscimento anche materiale anche fisico anche economico del loro sforzo questo significa toro e scorpione che se ci sono degli straordinari non riconosciuti se ci sono delle promesse economiche che cadono in cavalleria da tempo se ci sono delle condizioni economiche nei contratti da rivedere se sentite che c'è un forte squilibrio tra ciò che fate e ciò che vi viene riconosciuto contrattualmente probabilmente questa parte finale di luglio e la prima metà di agosto saranno terreno di ampia battaglia però probabilmente qualcuno potrebbe puntualizzare potrebbe inoltrare nuovamente una richiesta potrebbe insistere per l'accoglimento e in questo stesso clima probabilmente non si tratta soltanto di soldi e quindi di capire se c'è un equilibrio tra ciò che faccio e ciò che mi torna indietro ma si tratta di rivedere un po' tutti gli investimenti di tutte le risorse e quindi anche il tempo investito le energie investite l'entusiasmo investito per cui in tutti questi casi se ciò che date anche semplicemente a livello di entusiasmo o di tempo di impegno di energia è più di quanto non riceverete in cambio probabilmente potreste rivedere un po' certe cose e in certi casi anche mettere un punto quindi si ristabilisce un equilibrio su questi punti altro punto importante non solo lottare per avere il giusto riconoscimento a livello retributivo sul lavoro ma anche insistere se ci sono dei finanziamenti che vengono dall'esterno penso a chi ha chiesto un mutuo un prestito una dilazione a chi ha dei rapporti un po' complicati con le istituzioni con un ente con la burocrazia probabilmente permette anche di imporsi e di ottenere diciamo anche qui qualcosa penso a chi ha ricevuto una cartella pazza a chi aspetta una risposta da un ente un'autorizzazione da non si sa quanto tempo Marte in questa posizione permette proprio di insistere e di sbloccare certe situazioni l'ultima coppia di segni e anche qui in realtà diciamo che è un po' questa forse è la più difficile da mettere a fuoco ed è quella composta dal cancro e dal capricorno perché? perché qui Marte tocca un asse che in qualche modo è un po' quella del riordino della riorganizzazione delle attese è quella che io definisco un po' la pausa in camerino prima di entrare in scena cominciamo dal capricorno per il capricorno in questo momento è un Marte in sesta casa quindi è tutto un riorganizzare è tutto un rimettere a posto è tutto un capire come rafforzare certe routine e renderle più funzionanti perché in questo momento il capricorno è come se non ne potesse più di tutto ciò che va alla rinfusa di tutto ciò che va alla come viene viene per cui soprattutto quando poi questo lo porta o a vivere in costante affanno non ci organizziamo bene e io non faccio altro che correre appresso a questo appresso a quello oppure quando un equilibrio non funziona c'è qualcuno che non fa il suo e aspetta il capricorno a correre andare a mettere una pezza riaggiustare certe situazioni allora in questo momento per il capricorno questo è un Marte che porta proprio a riorganizzare e a ridefinire in certi casi a creare degli equilibri che funzionino meglio e siccome mensana incorpore sano il primo equilibrio parte proprio da dentro Marte in sesta casa può essere anche un ricreare migliorare certe routine personali per rialzare i livelli energetici e quindi dormire di più mangiare meglio fare più sport muoversi di più eccetera eccetera quindi in qualche modo è un riequilibrio delle energie che passa attraverso la creazione di equilibri che funzionino meglio certo è anche qui che probabilmente se ci sono dei turni degli orari qualcosa che ha a che fare con l'organizzazione del lavoro ma anche delle situazioni di disorganizzazione in casa con Marte in sesta casa il capricorno probabilmente ha la forza di insistere e di ottenere qualcosa di più abbiamo tenuto per ultimo il cancro perché non per dispetto ma perché in questo momento Marte percorre la dodicesima casa del cancro è nel segno che precede il cancro quindi in qualche modo è un Marte che prepara il campo a qualcosa di nuovo che partirà dalla fine di agosto a tutto il mese di settembre quindi è un po' come se ci fossero dei lavori in corso prima di inaugurare un nuovo edificio per cui mi immagino a chi per esempio sta preparando un esame un concorso a chi sta rimettendo appunto gli ultimi aspetti di un progetto prima di poterlo consegnare a chi sta semplicemente ritrovando nuovi ispirazioni prima di ripartire con qualcosa di diverso per cui è un Marte che lavora più dentro che non fuori questo non lo rende meno importante probabilmente vi dico una cosa cancro ascendente cancro e chiunque ha dei valori in cancro con Marte in dodicesima casa è come se uno assistesse alla vita attraverso un vetro appannato non è sempre facile capire come stanno le cose non è sempre facile intervenire attivamente per cui c'è la sensazione di essere un po' spettatori e c'è anche una certa difficoltà di capire quali sono gli amici e quali sono i nemici però contemporaneamente e quindi evitate di agire in maniera impulsiva o comunque di prendere delle posizioni nette su situazioni che non vi sono chiare però contemporaneamente è un Marte che aiuta proprio da dentro a costruire una maggiore decisione una maggiore sicurezza una maggiore perché? perché i transiti lavorano per contrasto e facendoti vedere tutto un po' appannato ti spinge a fare chiarezza dentro e a spannare questo vetro per cui può essere un Marte che riesce a darvi maggiore chiarezza su tante situazioni probabilmente il momento di agire arriverà quando Marte tornerà in cancro contemporaneamente anche il sole e i pianeti veloci saranno arrivati in vergine a settembre quindi probabilmente quello sarà il momento di agire sulla base di un cielo che adesso invece mira a creare maggiore certezza e maggiore convinzione questo significa anche che se siete in aspetto in attesa di una risposta o di qualcosa che deve arrivare probabilmente se ne parla dopo la metà di agosto quantomeno in maniera decisa perché anche qui Mercurio fa un balletto per cui passa dalla Vergine al Leone e poi nuovamente alla Vergine per cui per arrivare a delle certezze definitive penso a chi ha fatto una richiesta di lavoro penso a chi lo sta cercando a chi ha mandato un curriculum ha fatto un concorso un esame una selezione probabilmente il mese di agosto che è il mese ideale per andarsene in vacanza passa attraverso delle attese dopodiché dall'arrivo del sole in Vergine quindi dal 23 24 25 agosto in poi invece arrivano delle certezze l'ultima cosa prima di chiudere da oggi in poi i segni mobili avendo Marte in posizione diciamo attiva e dinamica e quindi i gemelli i pesci la Vergine e il Sagittario devono fare attenzione a non scattare nelle cose che li fanno innervosire perché Marte in opposizione in quadratura o nel segno può come quando alziamo il fuoco sotto la pentola far bollire di più l'acqua ottimo perché crea movimento però attenzione che l'acqua come dire non fuoriesca o non faccia saltare malamente un coperchio a questo punto non mi resta che fare una velocissima carrellata così per amore di sintesi allora Marte in gemelli per i gemelli un motore di spinta che aiuta ad emergere di più per il toro questione di soldi chiedere il giusto per l'ariete nella casa della comunicazione dire le cose diritto per dritto essere più convincenti e ottenere risposte per i pesci imporsi far valere i propri confini e ristabilire la propria autorità nei propri spazi per l'acquario Marte lascia la quadratura torna a favore più brillanti più convincenti più smart idee migliori e torna l'ottimismo ed era anche ora per il capricorno Marte nella casa dell'ordine riorganizzare e riordinare tutto imporre il proprio ordine sul disordine circostante Sagittario Marte in opposizione certe questioni vanno affrontate in maniera diretta se finora ho pazientato adesso non ho più non faccio più sconti a nessuno Scorpione Marte in ottava casa ce lo leviamo dall'opposizione e già questa è una grandissima notizia adesso questo è un Marte che aiuta a cambiare pelle a eliminare ciò che ha fatto il suo tempo a ripulire il campo e a riseminarlo di qualcosa di nuovo bilancia Marte in nona casa le caravelle di Colombo espansione movimento allargamento degli orizzonti viaggi che sono sinonimo di vacanza per l'estate ma anche voglia di arrivare più lontano l'autunno sarà una stagione di grandissima conquista Vergine Marte in decima casa competizione sul lavoro ma ci facciamo valere c'è da lottare ma certe conquiste sono ormai sempre più a portata di mano il Leone Marte nella casa dei nuovi orizzonti ma anche delle nuove amicizie e quindi aiuta anche a farsi largo imporsi in nuovi ambienti e fare nuove amicizie che possono essere utili per il lavoro ma anche per la vita privata il cancro Marte in dodicesima lavora da dentro crea una maggiore sicurezza in se stessi una maggiore convinzione che verrà messa in scena dalla fine di agosto e per tutto il mese di settembre che sarà un momento in cui tanti cominceranno una nuova strada o si imporranno in tante situazioni che da tempo li vedono in affanno direi che è veramente tutto non mi resta che darvi appuntamento alla settimana prossima augurarvi buona settimana a tutti buon sole in leone a tutti buon mercurio in vergine a tutti e soprattutto buon Marte in gemelli a tutti vi voglio bene ci vediamo domenica grazie a tutti grazie a tutti